La giornata dei dietro fronte. L'AI di meta al momento non utilizzerà più i contenuti degli utenti per l'apprendimento. Il garante della privacy, che aveva fatto qualche tempo fa un provvedimento relativo ai dati, metadati delle email dei dipendenti delle società, fa dietro fronte e in qualche modo alleggerisce il carico nei confronti delle aziende. E infine oggi vi racconterò di una sentenza che ha coinvolto anche il nostro studio in una causa che avevamo, che detta dei principi interessanti e particolari in tema di social network. Io sono Antonino Polimeni, sono un avvocato che si occupa di diritto di internet e questo è il caso, non esiste. Rassegna settimanale delle notizie digitali in chiave legale. Iniziamo! Location nuova questa, mi trovo in studio a Milano e sono in una cabina per le call insonorizzata. Infatti non so come andrà l'audio di questa puntata del podcast. Iniziamo con la prima notizia. Vi ricordate che Meta aveva imposto sostanzialmente a tutti i suoi utenti di cedere i propri contenuti e i propri dati, anche i dati personali, per l'apprendimento, per la fase di learning della sua intelligenza artificiale. L'aveva imposto nel senso che lo imponeva di default, ma c'era la possibilità eventualmente di fare opt-out. Quindi non richiedeva il consenso, ma dava la possibilità di opporsi a questo trattamento. Non richiedere il consenso per questo tipo di trattamento, secondo Meta, era basato sul legittimo interesse. Quindi sostanzialmente Meta poteva utilizzare questi contenuti di default, attendendo poi eventualmente un'opposizione. Un'opposizione che non era nemmeno così immediata. C'era un modulo e il modulo era anche abbastanza immediato. Trovare il modulo non era così semplice. O comunque non era a portata di tutti. Meta oggi si ferma. Si ferma perché ce ne dà comunicazione il garante della privacy irlandese. Irlandese perché ovviamente Meta ha sede in Irlanda ed è il garante competente. È sostanzialmente Noib, che è l'associazione di Schrems, per capirci, che ha per molto tempo impedito, che ha denunciato insomma il fatto che i dati personali degli europei venivano trattati in maniera non conforme al GDPR negli Stati Uniti, impedendo di fatto il trasferimento dei dati per qualche mese. Noib fa un comunicato stampa. Quindi probabilmente ci saranno loro di mezzo, ma al momento l'intelligenza artificiale di Meta, che doveva avere un grande boom, doveva avere una quantità di contenuti per l'apprendimento davvero enorme, si ferma. Si ferma, si fa una pausa di riflessione insieme al garante, quindi tutto al momento è sospeso. È interessante quando questi grandi colossi fanno una marcia indietro su qualcosa, perché insomma ci dà anche la contezza del fatto che valutino insieme al garante in questo caso e alle associazioni dall'altro, perché noi abbiamo un'associazione no profit, effettivamente la loro compliance e che anche i loro DPO, chiamiamoli così, comunque consulenti, possano sbagliare in una prima analisi e poi debbano fare marcia indietro. Davvero tutto molto interessante. Tra l'altro a proposito di intelligenza artificiale vi ricordo che c'è una procedura aperta in Italia da parte del garante privacy italiano nei confronti di OpenAI. Non so se ricordate che è stata sospesa la piattaforma ChatGPT per un certo periodo in Italia. Ecco, siamo all'interno proprio di quella procedura. Inizialmente la procedura ha previsto una sospensione in via cautelare di ChatGPT per tutti gli utenti italiani e infatti OpenAI ha sospeso il servizio per gli utenti italiani. Dopodiché, sempre in fase di dialogo con il garante, la piattaforma è stata riaperta perché le issues principali sono state effettivamente risolte, ma il dialogo tra i due è andato avanti. Non è stata chiusa così la procedura. Diciamo che quello era un procedimento cautelare, un qualcosa in via d'urgenza. Il dialogo è andato avanti e alla fine di questo dialogo, l'abbiamo già raccontato in un'altra puntata del caso non esiste, alla fine di questo dialogo il garante decide comunque di aprire un procedimento vero e proprio. Sostanzialmente cosa vuol dire? Come se dopo le indagini veniamo rinviati a giudizio, quindi c'è stato un processo, chiamiamolo così impropriamente, una valutazione da parte del nostro garante. Abbiamo intervistato Guido Scorsa al caso non esiste, tra l'altro nelle prossime settimane vedrete anche la puntata che abbiamo registrato con lui e ci ha dato un'anticipazione su questa procedura, ovvero che siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine e quindi ci dobbiamo aspettare probabilmente il provvedimento prima dell'estate, quindi sarà un provvedimento nei confronti di OpenAI e vi dico anche la mia sensazione in relazione a quello che Scorsa ha pubblicamente raccontato. Ci saranno sicuramente delle considerazioni che saranno molto importanti, saranno molto importanti anche per chi vuole utilizzare l'AI, quindi da questo provvedimento trarremo dei principi, ma la decisione finale su un'eventuale sanzione o meno toccherà al garante anche qui irlandese perché OpenAI si è stabilizzata in Irlanda, mi pare sì in Irlanda e quindi verrà trasmessa, ecco dopo aver fatto tutte le considerazioni, la procedura verrà trasmessa sostanzialmente al garante irlandese. Andiamo avanti. A proposito di garante privacy, è appena stato emanato il provvedimento relativo ai metadati delle email, che è stato un provvedimento scaturito a seguito di una consultazione pubblica. Quali erano i fatti? Qualche mese fa il garante aveva emanato un provvedimento relativo ai metadati delle email a causa di un'azienda, un ente anzi in quel caso, che tramite i metadati delle email che non sono le email, c'è stato questo grandissimo equivoco, ma sono i dati sulle email che sono un mittente, destinatario, ora di invio, l'ID, l'ID univoco dell'email, c'è i byte, la pesantezza del messaggio, insomma sono dei dati che vengono conservati sul server e che non hanno niente a che fare con il file dell'email, e ml o msg dell'email. Questo provvedimento di qualche mese fa stabiliva che un datore di lavoro deve cancellare entro sette giorni questi metadati, perché tramite questi metadati appunto questo ente aveva controllato le attività del lavoratore, un po' come se fosse una videocamera sul posto di lavoro, quindi tramite questi metadati il datore di lavoro, in questo caso l'ente, poteva e aveva effettivamente effettuato un controllo su come lavoravano i lavoratori, su quanto lavoravano i dipendenti, e quindi tutto ciò non era assolutamente consentito. C'è stata un po', insomma a seguito di questo provvedimento c'è stata un po' di maretta, di scontento da parte di grandi aziende, perché questi metadati in effetti sono dei dati che possono essere utili anche per altre finalità, come per esempio le finalità di sicurezza, e quindi questo obbligo, perché si trattava di un obbligo di cancellarli entro sette giorni, aveva un attimo mandato nel panico tutte le aziende che avevano account aziendali, tutti gli hosting che dovevano premunirsi di attivare delle piattaforme per il controllo dei metadati, e comunque dovranno farlo tuttora, perché il provvedimento, il garante comunque è in... adesso vi dico che cosa è venuta fuori da questa consultazione, insomma c'è stata questa maretta qualche mese fa, e il garante ha sospeso momentaneamente il provvedimento, ha detto ok, questo provvedimento non ha più, lo sospendiamo, non ha efficacia per qualche mese, perché in questi mesi voglio raccogliere il parere di tutte voi aziende. Aziende, associazioni di PO, di associazioni di categoria anche, hanno inviato le loro considerazioni al garante, e il garante finalmente ha emesso il provvedimento, ha emanato il provvedimento definitivo, provvedimento definitivo che è interessante nella parte in cui scrive che non, a differenza del precedente, non prevede nessun nuovo obbligo per la cancellazione di questi dati. Ed è un provvedimento anche qui, è un provvedimento che ci fa comprendere, dobbiamo dirlo, che a volte la valutazione fatta dalle autorità non include poi uno studio sulla realtà delle cose. È servita una consultazione pubblica successiva, ottima prassi, magari si dovrebbe fare precedentemente, è servita una consultazione pubblica successiva per modificare e stravolgere completamente questo documento. Documento che pone quindi l'attenzione sui metadati e dice che sostanzialmente effettivamente questi metadati possono costituire uno strumento di controllo per un datore di lavoro, per esempio pensate all'orario in cui viene mandata un'email, se viene mandata fuori orario, se non vengono mandate email nell'ultima ora di lavoro, insomma in qualche modo si può effettuare un controllo sulla qualità, sull'efficienza, anche quante email vengono mandate, sull'efficienza del lavoratore. Il provvedimento dice, ok, togliamo via gli obblighi di cancellazione di questi dati. Via tutti gli obblighi. Rimaniamo, come del resto dice il GDPR, ad un obbligo di accountability, quindi un obbligo di valutazione preventiva e se da questa valutazione preventiva dovesse in qualche modo scaturire un impatto importante a seconda della tipologia di attività che viene fatta dai lavoratori, effettivamente si deve prevedere una cancellazione più veloce. In ogni caso deve essere prevista una cancellazione e un piano comunque una procedura e un piano di, devono essere attenzionati questi dati, un piano di cancellazione. Quindi a prescindere dall'impatto che hanno questi dati, a prescindere dalla potenzialità che hanno questi dati di controllare il lavoratore, che in determinati contesti può avere effettivamente un impatto importante e quindi in quei casi, in un'ottima di accountability, bisogna prevedere una cancellazione che abbia un termine congruo e non consenta al datore di lavoro questo controllo, a prescindere tutto questo, questi dati vanno comunque attenzionati a tutte le aziende. Quindi le aziende dovranno da questo momento in poi avere all'interno dei propri registri e i trattamenti, all'interno delle proprie informative, la previsione della cancellazione dei dati, anche a due anni, a tre anni. Quindi anche se questi dati non sono potenzialmente dannosi per il lavoratore, devono avere comunque una data di cancellazione, perché sono dati come tutti gli altri. Quindi tutto questo procedimento, tutta questa vicenda relativa ai dati, ai metadati delle email, che cosa ci lascia? Ci lascia una consapevolezza, che forse prima non avevamo, di attenzione su questi dati, che dovranno essere inclusi all'interno delle nostre compliance privacy e delle procedure aziendali. Cosa che prima, 95-96 volte su 100, arriverei anche a 99 volte su 100, non era prevista. Quindi nuovo obbligo, nuovo obbligo è quello di attenzionare i dati, di considerare all'interno i registri dei trattamenti, di considerarli all'interno le informative per i dipendenti e contestualmente chi gestisce per conto di un'azienda le email deve avere e dare degli strumenti, un pannello di controllo, avere comunque la possibilità di prevedere una cancellazione di questi dati secondo le indicazioni del cliente, quindi dell'azienda stessa. Quindi gli hosting probabilmente si dovranno munire di questo pannello di controllo. Questo è quanto. Andiamo avanti. Ultima notizia. Proprio questa settimana ci è arrivata una sentenza, infatti, una sentenza relativa a una causa di diffamazione online che il noto rapper e personaggio Fedez aveva fatto nei confronti di una nostra cliente. I fatti sono relativi a quel video girato dalla coppia Fedez-Ferragni all'interno di un supermercato per festeggiare una ricorrenza, adesso non ricordo quale, e sostanzialmente c'erano delle immagini che richiamavano lo spreco alimentare. Questo si è detto nei giorni successivi, c'è stata una grande critica e all'interno di tutta questa critica ci sono stati anche dei commenti anche abbastanza forti all'interno dei social network. Uno di questi è stato fatto da una nostra cliente, che è anche lei un personaggio dello spettacolo, è Daniela Martani, che aveva scritto all'interno del, probabilmente sotto il post, all'interno dei commenti, le parole idioti e palloni gonfiati, o idiota e palloni gonfiato, nei confronti del rapper, nei confronti di Fedez. Fedez ha fatto quindi causa alla Martani chiedendo un risarcimento di 100.000 euro, che effettivamente è un risarcimento eccessivo sulla base di tutte le tabelle dei tribunali. Le tabelle vengono formate sulla base delle sentenze dei tribunali, poi alla fine vengono fuori queste tabelle che ci dicono per questo tipo di formazione la media a seconda del ruolo del personaggio, può essere un giudice, può essere una persona che non ricopre un ruolo particolare, può essere un personaggio dello spettacolo, allora questo è il risarcimento. Sulla base di queste tabelle 100.000 euro è effettivamente di gran lunga eccessivo. Tuttavia comunque parte questa causa, noi difendiamo la Martani, arriviamo a sentenza, non sto qua a raccontarvi chiaramente le vicende della causa, ma quello di cui voglio parlarvi oggi è un principio che viene fuori, assolutamente innovativo in relazione alla diffamazione sui social network, che viene fuori dalla sentenza. La causa l'abbiamo vinta, è stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno da parte di Fedez e Fedez è stato condannato a pagare anche le spese legali alla nostra cliente. Il principio interessantissimo che si trova all'interno di questa sentenza è questo. Se sei un personaggio noto e se sei esposto sui social network, nel caso in cui tu ponga in essere delle condotte o comunque crei dei contenuti che sono sicuramente prevedibilmente oggetto di critica, perché sono dei contenuti sicuramente eccentrici, per non utilizzare altri termini, devi aspettarti delle critiche, devi aspettarti degli insulti come pallone gonfiato e come idiota. Insulti che tra l'altro, dice la sentenza, non sono nemmeno tanto gravi e quindi in sostanza la massima si dice, la massima è quel principio che viene fuori dalla sentenza e che è proprio questo, ovvero che i personaggi e lo spettacolo nel momento in cui pongono in essere sui social network delle condotte un po' borderline, sicuramente sopra le righe, non si possono poi lamentare di essere insultati e non si possono di certo chiedere un risarcimento del danno per questo insulto. Quindi sostanzialmente c'è una commisurazione tra quello che si fa e l'insulto. Viene in qualche modo messa sulla bilancia, è chiaro che se io scrivo su Facebook, su Instagram qualcosa di normale, vengo insultato, questa bilancia pende probabilmente più verso la diffamazione. Ma nel caso in cui invece io vado a scrivere, a divulgare un contenuto che prevedibilmente ottiene una serie di critiche, è chiaro che posso essere insultato e allora il livello dell'insulto e della diffamazione può crescere, può effettivamente crescere. È un principio che viene dichiarato per la prima volta all'interno dei social network, veramente molto interessante e che colpisce in qualche modo tutti i personaggi dello spettacolo, che scegliendo che cosa pubblicare, quali contenuti divulgare, sostanzialmente scelgono di che morte morire sui vari commenti. Devono essere pronti a sopportare dei commenti più forti. Anche per oggi è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana, la prossima settimana proverò a fare il solito aggiornamento, sarò in Nepal in missione umanitaria, però come sapete cerco di non fermarmi nell'aggiornamento. La prossima settimana sarà l'ultima prima della sosta estiva, pausa estiva sicuramente che parte un po' troppo presto perché luglio e agosto a luglio si lavora regolarmente, però abbiamo tanti contenuti da divulgare che sono stati registrati al caso non esiste speciale UMF, We Make Future, e abbiamo tantissimi approfondimenti, chiamiamoli così, tra cui uno è proprio quello con video scorza, che dovete assolutamente ascoltare. Quindi iniziamo a mandare quelli per un paio di mesi e poi tiriamo le somme di questi primi mesi del caso non esiste. Grazie per avermi ascoltato anche questa settimana, ricordate sempre che solo con le regole si costruisce il futuro perché il caos porta al fallimento. Ciao e alla prossima settimana dal Nepal. Grazie per avermi ascoltato anche questa settimana.